Qua dove si fanno le collettività? In quella gialla si dove si fanno le attività Ora siamo arrivati nel pizzo amarillo Donde si fanno le attività Per aiutare al paciente a parlare o a sviluppare Qui c'è l'individuo Si Ah, individual? Si Qui c'è una guitarra Una bicicletta Per aiutare Per aiutare Per aiutare Per aiutare Per aiutare Poi Poi usare l'internet Si La televisione Sempre facendo le attività Ogni giorno Ah, questa è l'attività 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 del gruppo C'è anche c'è una matrizina Per fare ginnastica Esatto La matrizia Per fare attività fisica La pratica De catarsis De hablar Una ora Dos horas Cinco horas Quanto tempo è? Il gruppo C'è la riunione C'è tutte le mattine Dura un'ora La riunione dura Toda la mattina Un'ora Poi Ci sono diverse attività Per cui Stanno in alcuna attività Dove magari La discussione filosofica Scelgono un tema E parlano di quella La discussione filosofica Eligen un tema E hablan di esso E chi la dirige? Una UFI No Un volontario Un cittadino Un volontario Que già sta previamente capacitato In un curso Que aveva capacità sui personali Ha studiato credo teologia E ha chiesto di Que studiò teologia Y pidio si può essere volontariato Di aiudare a queste persone Ok Ok Que qual è il tema Che mas les gusta A los usuarios? Ah, adesso troverò a domandare Ok, ahora proviamo a preguntar Ok Possiamo diskumbarli Con un amico mexicano Di Rodrigo Che, scusami Ero Rodrigo No, lui è il mio traduttore Italiano, Spagnolo Spagnolo-Italiano Questi sono le operatrici del Centro diurno Encantado Mendici Allora, lui voleva sapere, nella discussione tra gli utenti, quali sono i temi che vengono affrontati più spesso? Ma più spesso le relazioni con i familiari, spesso. La maggioria la relazione con lo familiare, i padri e i sposi, oppure anche i madri? Sì, entrambi. Con i figli, con i figli, con i figli, con i figli, con i padri. Grazie. Con gusto, mi presento. Soy il licenciato Mario Cantù e sono il presidente di una fondazione di Derechos Humanos in l'area di la salute mental, mi lavoro allà in México è vedere che se respeten le garantie individuali del paciente psiquiattrico, diagnóstico, especialista e che le attinen a la enfermedad. Però gli stanno avanzando molto più, quindi già leia a Franco Basaglia, però necessitava vedere fisicamente come lavorava. e anche la fine renda. Si me buscas in Google, si buscas, se cerca in Google. Ah, io parezco io. Vuoi buscermi? Sì. Se lo vuole cercare. Lo buschiamo. Lo buschiamo. No, no, che è di Gutiérrez. Ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Guntlac. Mario Cantù, Guntlac. Ah, ok. Il primo. Ah, io sono. Ho sette hojas di pagina mia scritta. Ah, sette hojas. Qui è una conferenza, una conferenza, però hai más a cerca. Che se metta a mio canale. Ah, che vada nel canale diretto. Mario Cantù, hazle clic. Qui? Qui? E qui, Mario Cantù. Ah, il canale, sì. Videos, videos. Sì. Videos, ahì. E questo è tutto il mio lavoro. Ah, ok. Tutto il lavoro. Boletino informativo. Bájale. 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 Ah, no. Sì, bájale. Aquí, eso. Cierre di una clinica psiquiattrica. Sì, Colombia, la terapia. Ok. La che sigue. Mi querido maestro. Se busca director. Más adelante. Clausurado. Hicimos una clausura civil. No, 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 oficial. Una clausura di un psiquiattrico. Ha fatto una clausura civile del centro psiquiattrico. Ok. Ahí me siguen viendo por si quieren conocermi mal. Buongiorno. 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 Ok. Grazie. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Aquí están de las mujeres, de los hombres y de los invalidos. Ah, descapacitados. Está muy bien todo esto. Eso. Muy bien. Aquí están de las personas que están muy, pero muy mal. ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué actividad tienen? ¿Qué actividad no les gusta? ¿No más futbolito? ¿Si el billiardo no les gusta? No, el billiardo no lo tenemos. ¿No lo tiene? No. No. No sé nada. ¿Y aquí? Ah, los horarios, las cosas que hacen, los apuntamientos. C'è scritto chi magari ha bisogno di un aiuto e chi l'aiuta. Ok. Aquí está la fecha. Bueno. Ya. Qui qui arriva de nuevo. ¿Quién viene de nuevo? ¿Quién viene de nuevo? ¿Quién frequenta hoy de utente? Todo el utente. Aquí está. ¿Quién viene hoy? Y aquí pueden dejar de mensaje bonito, positivo. ¿Quién la atiende y las actividades también aparecen aquí? ¿Y si han desvito y terminan aquí? ¿Quién debe de haber una llamada? ¿Quién debe de estar una pantalla de eso? Ahora vamos a ver si viene afuera. ¿Quién debe de estar en la fiesta del carnaval, por ejemplo? Ah, mañana está la fiesta del carnaval. Y una visita en un museo. Ah, perfecto. Aquí, bienvenida, Monica. ¿Quién debe de estar en la fiesta del carnaval? Vamos a ver si está en la fiesta del carnaval. Religiosa, actividad de baile y todas esas cosas. Chao. Chao. Chao, hijo. Ah, escuché. Ok. Justo es nuestro servicio. Ok. Este es el servicio de... ¿Y acá arriba? ¿Por qué está en rojo? Ah, es la obra. Sí. Ah, yo pensaba que aquí era la zona más peligrosa, pero es la obra. Bueno, bueno. ¿Cuáles son algunos... ¿Alcuni dipídeos que han hecho los... Bueno, esto es para un movimiento italiano de convenio que nos hacemos. Quello que estaban ahí, también los pescitos de la, sí. Esto es para un movimiento italiano que hace un convenio. Ah, ok. Entonces con una universidad o convenio con qué? Con... Con... Con qué? Ah, con diversas realidades italianas. ¿Cómo? Eh, que son todos servizos italianos. Ah, son todos diferentes servizos italianos. Brescia. De diferentes ciudades. ¿Fundaciones o asociaciones? Servizos de salud mental. Como comenta. Asociaciones o anche asociaciones. Ok. Ok. Asociaciones o asociaciones. Ok. Asociaciones o asociaciones. Ok. Grazie.